Peterman, alla prima davanti al pubblico di Teramo hai già fatto capire di che pasta sei fatto? Sì, sono contento del gol ma soprattutto della prestazione, visto che sono parecchi mesi che non facevo una partita levando le ultime due o tre amichevoli ma soprattutto ci siamo trovati come squadra, come gruppo riusciamo a fare la maggior parte delle cose che proviamo in allenamento e quindi abbiamo ancora questo periodo di tempo per migliorarci ancora. Senti il ginocchio, tu il trauma l'hai superato anche mentalmente, hai ancora un po' di paura, pensi di poter fare di più? Beh sicuramente posso fare di più soprattutto fisicamente, non penso di essere ancora al 100% giusto perché sono passati otto mesi in cui la partita è una cosa che manca perché puoi allenarti quanto ti pare ma poi la partita, l'agonismo, la concentrazione, l'adrenalina, quella ancora devo raggiungere i massimi livelli però mentalmente non ho paura, sto bene e quindi questo tempo prima del campionato mi aiuterà a migliorare ancora di più. Senti sono usciti i gironi, resta il girono in B per il terreno ma è un girone molto diverso da quello che anche tu hai conosciuto. Sì è un girone diverso, ci sono molte squadre forti ma noi insomma non siamo da meno come noi leggiamo il loro nome anche loro leggeranno il nostro, siamo pronti per affrontare il girono, il campionato e possiamo dire che meglio così sarà un girone molto combattuto e ci divertiremo. Quindi Venezia e Parma ma non solo? Venezia, Parma, Reggiana, Modena, insomma le squadre i nomi sono quelli ma come ho già detto affronteremo tutti senza paura e senza timore perché il campionato è lungo e ce la giocheremo fino alla fine. L'ultima sotto il profilo tattico, centrocampo a tre, centrocampo a due, come ti trovi meglio? Io ho sempre giocato davanti alla difesa negli ultimi anni ma a questo inizio di stagione sto lavorando anche molto da mezzala e insomma non mi faccio problemi davanti alla difesa, mezzala, trequartista, dove posso dare il mio aiuto ci metterò sempre il cento per cento.